Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 185esima puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi come sempre le principali notizie nel mondo del software libero open source delle settimane appena trascorse. Come avete avuto modo di federe, questa è la prima puntata del podcast di Marcosbox da quando c'è stato il cambio di dominio e piattaforma di Marcosbox. Marcosbox non è più raggiungibile al .org ma è raggiungibile al .com, quindi il nuovo indirizzo di Marcosbox è www.marcosbox.com Vi ho spiegato in un video che trovate sul canale YouTube di Marcosbox, andate per recuperare il perché ho fatto questa modifica e oltre ad aver cambiato il dominio ho capito anche piattaforma perché sono passato da blogger a wordpress. È un cambiamento importante, mi sta causando un casino di problemi che non avete idea per quanto riguarda l'indicizzazione. Vedremo se nelle prossime settimane, anche grazie all'aiuto di Black Codec, che ringrazio di cuore, mi ha dato una mano grandissima in queste fasi iniziali di migrazione da blogger a wordpress Dicevo, vedremo nelle prossime settimane se grazie a lui riusciremo a ripristinare l'indicizzazione altrimenti ricominciamo tutta l'avventura con Marcosbox con .com da zero così come era successo già in passato quando ero passato dal blogspot al .org quindi la terza rinascita di Marcosbox. Ovviamente chiedo il vostro aiuto in questa fase iniziale fornitemi supporto, fornitemi consigli, datemi aiuto anche per quanto riguarda se sapete qualche modo per cercare di ripristinare l'indicizzazione come si deve in maniera uno a uno con il vecchio dominio al nuovo dominio e soprattutto condividete gli articoli di Marcosbox, fate sapere al mondo intero che Marcosbox non è morto ma ha cambiato soltanto piattaforma e dominio, quindi condividete, fate sapere chi più ne ha più ne metta l'esistenza di Marcosbox.com quindi ci tengo, aiutatemi e ripeto, ancora grazie di cuore a BlackCodec per l'aiuto che mi sta dando in questa fase iniziale che mi darà anche nelle prossime settimane per far rivivere Marcosbox e spero vi piaccia il nuovo layout di Marcosbox che a me piace è simile a quello precedente però adesso è su piattaforma WordPress quindi adesso potrò fare anche casino a manetta mettendo plugin e rompendo cose di più rispetto a prima vabbè, comunque lasciate un commento, fatemi sapere se vi piace e aiutatemi in questa fase iniziale e adesso apriamo la puntata, entriamo nel vivo nella puntata la prima parte della puntata sarà dedicata a commentare i software che sono stati aggiornati questa settimana poi parleremo a Linux, a distribuzioni Linux e infine con le ultime notizie di gossip che non c'entrano direttamente con Linux la prima notizia riguarda il rilascio di Firefox 127 la nuova versione, l'unico vero browser che usa a sfidare lo strapotere dei browser basati su Chromium ripeto sempre questa frase e la ripeterò fino allo sfinimento perché Firefox è l'unico browser non basato su Chromium ma ad essere lì a combattere assieme a noi per libertà su internet questa nuova versione di Firefox va a migliorare la sicurezza degli utenti c'è una riduzione del rilascio del fingerprint per gli utenti Linux nelle versioni X a 32 bit di Firefox funzionamento per esempio su Windows è stata aggiunta la possibilità di avviare Firefox all'avvio automatico ogni volta che andiamo ad accendere il computer se attivate questa funzionalità su Windows sappiate che non siete miei amici perché io odio tutti quei software che si avviene in maniera automatica io conosco gente che fa VR Mezzomondo all'ivio di Windows e non capisco l'utilità di fare una cosa del genere è stato completato il lavoro per l'ottimizzazione e l'abilitazione del prefetching DNS per i documenti HTTPS migliorata la funzionalità di chiudi schede migliorata anche la funzionalità di screenshot di Firefox quindi tanta carne al fuoco se avete problemi con quest'ultima versione di Firefox e YouTube però ci tengo a sottolineare una cosa a farvi sapere che non siete i suoi c'è un bug attualmente in essere con Firefox e gli ultimi aggiornamenti che sono stati propinati da Google per la piattaforma YouTube e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una minore rese di Firefox che andrà a risolvere questo problema ci metterà un workaround quindi abbiate pazienza ancora qualche altro giorno e cambiamo argomento, cambiamo software e passiamo adesso a parlare di OnlyOffice Desktop Editor che giunge alla versione 8.1 OnlyOffice Desktop Editor è praticamente una suite d'ufficio gratuita e multiplattaforma è disponibile per Windows, MacOS e Linux che io consiglio a tutti quegli utenti che cercano un'alternativa a LibreOffice perché è interessante OnlyOffice Desktop Editor perché oltre ad avere una interfaccia grafica stile Ribbon quindi più facile per quegli utenti che si avvicinano per prima volta all'altra suite d'ufficio che non siano quelle proprietari Microsoft questa suite offre una migliore compatibilità con i formati proprietari Microsoft quindi avrete meno problemi di formattazione e cosa molto interessante in questa nuova versione di OnlyOffice Desktop Editor è la funzionalità di modifica dei PDF che è stata aggiunta è possibile modificare il testo e i PDF aggiungere, quotare, eliminare pagine, inserire e modificare vari oggetti come tabelle, forme, riguardo di testo, immagini, collegamenti chi più ne ha più ne metta e quindi è una suite completa per l'utilizzo ambito Office quindi se cercate una suite d'ufficio basilare perché sono soltanto tre applicativi abbiamo il Word Processor, abbiamo i fogli di calco e abbiamo le presentazioni però abbiamo anche la funzionalità di modifica dei PDF quindi se cercate una suite completa, minimale ma potente fateci un pensierino, provate OnlyOffice Desktop Editor su Linux, come vi dicevo, è disponibile anche per Linux è disponibile come pacchetto DEB, come pacchetto RPM come pacchetto Snap, come pacchetto Flat Pack come anche AppImage quindi non avete scuse per non installarlo sulla vostra distribuzione per non provarlo fatemi sapere voi poi se la provate come vi trovate con questa suite d'ufficio Passiamo adesso alle distribuzioni Linux c'è stato il rilascio di OpenSUSE LIP 15.6 che è la ultima versione di OpenSUSE LIP 15 quindi il ramo 15 di OpenSUSE LIP che adesso va ad uniformarsi, ad allinearsi con SUS Linux Enterprise 15 Service Pack 6 oltre ai vari aggiornamenti di Kern, Linux e quant'altro di programmi come Podman, Xen, KVM e quant'altro troviamo anche l'inclusione del software di amministrazione Web Cockpit per quanto riguarda i desktop environment non troviamo stravolgimenti abbiamo sempre KDE Plasma che viene aggiornata alla minor release 5.27.11 con i QT che sono alla 5.15.12 e KDE Frameworks alla 5.1.15 e GNOME alla versione 45.0 qualche cosa se volete provare questa distribuzione c'è su Marcos Box il link per poter scaricare anche l'annuncio del comunicato ufficiale del rilascio di OpenSUSE LIP 15.6 con il Change Log completo è una distro, comunque OpenSUSE è sempre da tenere nel cuore e passiamo adesso a una distribuzione che ancora non è stata rilasciata ma verrà rilasciata fra qualche mese rilasciata a ottobre ovvero Ubuntu 24.10 Oliver Smith, uno sviluppatore di Canonical ha pubblicato su uno dei siti che fa parte dell'universo Canonical un'anteprima delle funzionalità che vedremo sulla prossima versione di Ubuntu la prima riguarda alcuni miglioramenti che sono stati fatti al pacchetto Snap di Steam che adesso è stato aggiornato con una gestione più ampia dei permessi che dovrebbe risolvere una serie di segnalazioni in sospeso quindi con problemi che si avevano con dipendenze, con driver e quant'altro è stato poi aggiornato il programma di installazione di Ubuntu Desktop qui trovate le maggiori informazioni sull'articolo dedicato ed è stato aggiornato anche l'App Center che adesso supporta finalmente l'installazione dei pacchetti in formato DEB quindi non dovremo più stare a installare applicazioni in terze parti per installare i DEB con doppio clic in maniera grafica su Ubuntu ma finalmente è stato tutto integrato in App Center e mi domando perché non ci hanno pensato prima anzi forse mi faccio domande e risposte secondo me vanno fatte in malafide così la gente utilizzava, secondo le loro intenzioni, di più applicativi in formato Snap ma non vedo perché non mettere subito una funzionalità del genere in App Center per la versione LTS chissà se verrà backportata a breve anche sulla versione LTS di Ubuntu ma vediamo nei prossimi mesi e c'è stato poi il rilascio di KDE Plasma 6.1 con questa nuova versione di KDE Plasma si entra nel vivo nello sviluppo d'ora in avanti non troveremo soltanto ritocchi agganimazioni o qualche funzionalità aggiunto di qualche piccola funzionalità ma troveremo modifiche sostanziali che verranno aggiunte a KDE Plasma sull'articolo su Marcosbox trovate le principali novità che sono state aggiunte a questo giro che sono principalmente personalizzazioni migliore personalizzazione miglioramenti per quanto riguarda KDE Plasma e una funzionalità che è la migliore funzionalità che potevano introdurre che consente di sincronizzare i colori red dei tasti in modo che corrispondano al colori risalto su Dexter quindi se avete tastiere quelle multicolors con tutte quelle colorate con i GED che si accendono potete sincronizzare i colori questa secondo me è proprio una cosa che aspettavano tutti quanti mannaggia uffa e fate le cose serie non pensate a se stronzate vabbè comunque di sicuro ci sono tante persone che aspettavano una cosa leggera e passiamo alle ultime due notizie di questa puntata due notizie che sono tra virgolette di gossip cioè non sono notizie che riguardano essenzialmente dei software liberi open source ma sono notizie che riguardano l'informatica a 360 gradi la prima notizia riguarda il ban che gli Stati Uniti hanno applicato nei confronti di Kaspersky la famosa società produttrice dell'omonimo antivirus e di tutte le sue società satelliti perché adesso non potranno più essere commercializzati i loro software all'interno dei territori statunitense perché l'amministrazione Biden dopo un'analisi che è stata fatta per quanto riguarda i prodotti di Kaspersky ha deciso di applicare questo ban per via dei legami significativi che Kaspersky ha con il governo centrale della Russia quindi per motivi di sicurezza nazionale gli Stati Uniti hanno deciso di applicare questo ban che entrerà in vigore dal 29 settembre trovate l'articolo completo sulle pagine di Marcosbox con i green car routers che ha dato la notizia questo fa pensare che come al solito perché sicuramente ci sarà una cosa simile anche da noi in Europa perché di solito quando gli Stati Uniti mettono un ban abbiamo visto con i prodotti della Huawei per quanto riguarda la Cina poi i partner sono caldamente invitati a seguire le orme e di sicuro questa decisione avrà ripercussioni anche da noi in Europa boh io non so che cosa pensare vabbè se hanno deciso che è una cosa grave cioè avranno visto di sicuro delle cose gravi delle gravi violazioni avranno i loro motivi fatto sta che come avete avuto modo di vedere negli ultimi anni i conflitti non sono più soltanto cinetici ma sono anche a livello di ban per quanto riguarda prodotti hardware e software e questa è l'ennesima dimostrazione e ultima notizia riguarda una piccola vittoria perché è piccola perché quello è piccola ve lo dico subito che riguarda il chat control il controverso sistema di controllo delle chat che si sarebbe dovuto votare in Europa anzi si è votato in Europa si doveva votare in Europa qualche giorno fa mi sto in cartonciano si sarebbe dovuto votare in Europa qualche giorno fa è un sistema di controllo delle chat proposto dal governo belga attuale presidente dell'Unione Europea fortunatamente la votazione non è stata fatta perché non si è raggiunto la maggioranza ufficiale una maggioranza sufficiente per poter approvare questo grande occhio che gli stati europei vogliono applicare sulle nostre chat e che metterà a rischio anche diversi applicativi software Signale si è schierato contro ad esempio su questa direttiva però perché è una vittoria parziale per noi perché sì non si è votata quindi non è stata approvata attualmente la direttiva chat control però a luglio ci sarà il cambio di presidenza del consiglio dell'Unione Europea e dal Beggio si passerà all'Ungheria Ungheria che ha già annunciato la decisione di portare avanti i negoziati su chat control quindi molto probabilmente la decisione e l'applicazione del chat control è soltanto rimandata quello che vi posso dire è che fortunatamente ci sono nazioni come la Germania che voterà contro c'è la Francia che mi sembra che forse ultimamente ha cambiato anche idea ci sono diverse nazioni che si esterranno dal voto speriamo che questa situazione di non visione orwelliana da parte degli stati europei riesca a boicottare questa cosa seguiremo nei prossimi mesi come si evalverà la faccenda anche se io ho paura ho paura che alla fine verrà fatta passare questo meccanismo di controllo in nome sempre dei soliti e quindi ci troveremo in brutti guai dal punto di vista della privacy noi cittadini europei vabbè comunque prossimi mesi seguiremo la vicenda ultima notizia di questa puntata riguarda i computer di Tuxedo perché Tuxedo Computers ha annunciato di star lavorando a un notebook ARM con Sock Snapdragon X Elite di Qualcomm l'annuncio è stato dato direttamente da Tuxedo era stato presentato anche alla fiera dei computer che c'è stata qualche settimana fa ed è una notizia bella per noi utenti Linux significa che se Tuxedo sta investendo nel sviluppo di Nego Free anzi un computer basato su tecnologia ARM con Sock Snapdragon per noi utenti Linux significa che le cose sono ormai mature e anche noi utenti Linux potremo finalmente beneficiare di tutte queste tutta la potenza dei di tutte le potenze non soltanto la potenza tutti i benefici che i processori la piattaforma ARM è in grado di offrire in termini di consumi in termini di prestazioni e quant'altro questo nuovo prodotto verrà rilasciato se tutto andrà bene verso dicembre, verso Natale ci sono anche rassicurazioni da parte di Tuxedo che ha detto che Qualcomm ha intenzione di supportare nel kernel Linux questa piattaforma ARM e verranno introdotte modifiche nel kernel Linux 6.8 e 6.9 per far funzionare tutto correttamente quindi il futuro della piattaforma ARM per Linux è erosio non vedo l'ora di provare una cosa del genere poi tra questo e i computer equipaggiati con i processori anzi con la piattaforma Apple Silicon finalmente per una volta noi utenti Linux non ci troviamo in arretrato rispetto agli altri beh con questa ultima notizia si conclude qui questa 185esima puntata del podcast di Marcos Box io come sempre vi invito a seguirmi sui social mi trovate su Facebook X, YouTube podcast di tutti quanti LinkedIn Mastodon Telegram soprattutto su Telegram trovate tre canali cioè il canale dedicato alle notizie il canale dedicato alla community Telegram e il canale dedicato alle offerte Telegram quindi con i link di applicazioni Amazon per poter supportare il blog vi ricordo inoltre che potete abbonarvi anche a NordVPN utilizzando il mio codice refera e infine vi ricordo che è possibile acquistare computer su Revoir che è una società italiana che commercializza computer ricondizionati avendo un piccolo sconto per tutti quanti gli attori di Marcos Box se ci cliccate sul banner che trovate sulle pagine del blog vi faccio vedere tramite questo piccolo sconto del 5% fino al 30 giugno acquistando un computer avrete un 5% di sconto appunto sul computer e potete portarvi a casa un computer ricondizionato perfettamente compatibile con Linux farete del bene al mondo intero farete del bene alla natura farete del bene anche alle vostre tasche non è una cosa sponsorizzata che io ci guadagno ma è una cosa che come vi spiego nell'articolo ho voluto fare un regalo che ho voluto fare a voi lettori di Marcos Box perché so che voi siete attenti a queste tematiche lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box spero di essere un po' più attivo la prossima settimana perché stasettimana è andato un po' lì per tra il fatto del blog casinia lavoro e quant'altro quindi sono andato un po' rietto spero di tornare a pieno reggimento la prossima settimana ciao ciao ciao